Allora Stefano Disegni e Il Califfo, qual è il legame? Guarda il legame è un legame particolare che è di amore e odio Allora non odio è una parola un po' forte, però diciamo io sono sempre stato interessato più alla musica anglosassone e sono un esterofilo purtroppo, ho questa malattia, quindi ho un po' bypassato tutta la produzione italiana sono snob, bastardo, sono cresciuto così, sono la generazione dei Beatles, i Rolling Stones ho virato presto verso blues, rock, pop ecc. Califfano però è forte e quindi mi ha fatto un po' rivedere queste posizioni un po' rigide all'inizio in base alla quale tutto quello italiano vi ha scartato e lui aveva una grande capacità di scrittura, aveva sicuramente dietro questa scorza di era una sensibilità veramente profonda, molto più raffinata di quello che poi lui stesso amava mostrare molto più delicato Lui era un poeta, no? Era assolutamente un poeta, l'ho compreso più da adulto che negli anni in cui ero appunto avvelenato di rock e di blues e quindi ho fatto una leggera virata, quindi il rapporto è diventato da ammazza quanto ero un po' rigidino prima e guarda quante cose belle forse o almeno una, me la sono a pensare che continuo a pensare che la musica esterofila è meglio di quella italiana e qui poi litighiamo, mentre invece per Califano una grossa eccezione la faccio senz'altro Tu disegni, sei un maestro diciamo con la matita, ecco e Califano scriveva con la stessa matita si possono dire cose diverse ovviamente, no? Assolutamente sì, Califano poi aveva una cosa che mi piace pensare di avere in comune ma non solo con me ma con molte altre persone riusciva a raccontare storie, le sue storie, con un velo di ironia e un velo di umorismo che traspariva era un disincantato, era un uomo spiritoso, ho avuto modo di conoscerlo in tarda età la sua e un po' pure la mia e ci ha fatto molto molto ridere in una tavolata a Napoli io facevo convention, io scrivevo per Max Tortora che imitava come ricorderete Califano e quindi ci inventavamo la qualunque e lui si divertiva da pazzi fino al punto che venne in puntata e fecero un duetto Califano-Tortora e io ho avuto il piacere di scrivere quello che diceva Tortora, non tutto, insieme a Max e fu una bellissima serata soprattutto dopo quando al tavolo partì con l'aneddotica di Califano che non posso qui replicare o raccontare anche per questioni di decenza ma vi assicuro che è veramente un uomo pieno di senso dell'umorismo Stasera siamo qui per ricordarlo, grazie mille